Successo per la dimostrazione conclusiva del progetto di ricerca SMAT F1, sistema di monitoraggio avanzato del territorio, condotto da Alenia e Selex Galileo, aziende del gruppo Finmeccanica. La missione congiunta di monitoraggio del territorio per scopi civili, basata su tre sistemi senza pilota che operano a diverse altezze, rappresenta un record europeo di grande rilievo. È la prima volta infatti che più sistemi senza piloti operano congiuntamente e contemporaneamente nello stesso spazio aereo, in un'area di volo che non è un poligono militare, decollando e atterrando da un aeroporto civile, in area situata su terra e non su mare. Lo scopo principale del progetto SMAT F1 è quello di studiare e sperimentare un sistema di sorveglianza a supporto delle fasi di prevenzione, emergenza e salvaguardia del territorio per il controllo di una vasta gamma di eventi, alluvioni, incendi, frane, traffico, urbanistica, inquinamento e coltivazioni, operando in modo integrato con le autorità preposte alla gestione di tali eventi e fornendo loro informazioni puntuali e aggiornate in tempo reale attraverso una stazione di supervisione e coordinamento. Noi abbiamo cercato di dare una valenza forte a questo progetto, concentrando molte risorse e soprattutto investendo su una linea di ricerca che avrebbe portato a risultati concreti. Direi che oggi è la dimostrazione che un risultato più che concreto, abbiamo il primo prototipo di aereo senza pilota attrezzato per usi civili che vola sul Piemonte, è un risultato straordinario. La piattaforma permette alle aziende grandi ma anche alle piccole e medie imprese del nostro Piemonte di crescere, di crescere nella direzione dell'innovazione, della competitività e quindi nella direzione che noi vogliamo, che è l'unica che può permettere al nostro mondo imprenditoriale di essere competitivo in un mercato globale che è ormai feroce senza scrupoli. Per cui abbiamo deciso, peraltro questa è una notizia nuova, che nelle prossime settimane finanzieremo ancora una nuova piattaforma aerospaziale con nuovi progetti di ricerca e ne daremo notizie. Grazie Grazie